I tuoi colori in alto porterà gravità Se la mia passione sto canto d'amore La lega nazionale diretta e il partimento interregionale scelterò in campo il piatto di tocca Lelita, una donna c'è male come l'ansia La ha una scelta, una donna c'è male come la donna di Gassvallino Le desma in qualche modo da Silva fa la buona per Curvino che si va al tiro, poi la palla resta lì Ledesma! Lo sprocco a Felix! 1-0 Gravina! Felix Ledesma! Eeeh Gravina! Ha segnato con il numero 5 Felix! Contro il numero 2, pronto Gauforina! Ma Gauforina va adesso metti in porta! 1-1 Gauforina, che gran gol! 1-1! Quanto è lungo? Secondo pallo a cercare, da Silva, che è parato del milione, lo ha cercato! Ancora Matteus! La mette Matteus! 2-1 Gravina! Goal del Gravina! La palla da dentro per il campo, la palla di 27 verso il 100, poi 5-8! La stessata poi, tutto chiuso, deve cercare spazio, non c'è la morire, non vabbè! Il pinto! Il pinto! Il pinto! Il pinto! Oh, miracolo di Pascia! Il Gravina, quella è la buona! Stessata, poi il prossimo contesto di Paolo Rizzo! E poi blocca la Sceola! Grande giocata per Curvino che vuole andare da Santoro! Santoro fa correre da Silva che va via! Occhio a da Silva, da Silva! Da Silva dentro per Curvino! E poi vuole la vuole per Chiaradia! Chiaradia! Chiaradia alto! Adesso, bigilio ha messo! E' una chiaradia! 1,6! Arvio! E' tuccito! Secondo il pinto! No, ancora tuccito! E' tuccito! Ancora tuccito! Se la sposta ve l'ecTestolo! Pinto! Milagro di Pascia! Un'apiragone! Pirtone! 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 Occhio a Virgilio, 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 Virgilio Blasciano! Occhio a Pinto, 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 esterno della rete che brivido qui! Il centro dell'aria, il colpo di testa e il pallone che è terminato. Occhio a Pinto, Oriere, va direttamente in porta al lato. Occhio a Pinto, Oriere, va dall'aurelio al lato! Pinto, Oriere, sgasa e va via! Pinto, Oriere, c'è da Silva sul secondo palo. Pinto, Oriere, dentro per Mateus, Mateus, Mateus figliuna! Palermo, Vlasciano! Parte Coppola, secondo palo, cercare da Silva! A cercare Orlando al lato! E poi l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce due a due fra Gravina e Martina.